è un video, non c'ho la foto, aspetta che vado proprio indietro siamo al parco Ruffini e ci guardano tutti dai, dai ele te lo ricordi? la plancia è l'ultima ma neanche qui ti ho superato le righe vabbè dai non è andato mai brava cos'era? lungo il lancio di Elena? Elena non piangere adesso, non è il caso, tra un po' tocca a te cos'era lungo il lancio di Elena? penso di sì grazie 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 è dall'altra parte grazie 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 Vai Grazie Grazie